Sette punti per rilanciare lo sviluppo della Toscana. Li ha lanciati il presidente Enrico Rossi, che ha fermato un'intesa con i soggetti dell'economia e della società toscana, associazioni di categorie e sindacati. Queste le linee di intervento. Investimenti pubblici e privati, a partire dalle infrastrutture, per 8 miliardi di euro in 5 anni, facendo pressione anche sul governo nazionale. Staffetta generazionale per portare a due terzi il tasso di sostituzione previsto da quota 100 con i pensionamenti, riallineamento di domanda e offerta di lavoro, sostegno a Industria 4.0 con 5 milioni del Fondo Sociale Europeo, sviluppo dell'economia circolare, marchio di localizzazione territoriale della Toscana e credito alle imprese con la prospettiva di attivare 240 milioni di euro di finanziamenti. Non possiamo perdere questi mesi che restano, lasciando come spesso accade negli ultimi mesi di lavoro, rallentando l'attività negli ultimi mesi di lavoro. E per questo abbiamo concertato, fatto un lavoro insieme alle parti sociali tutte per individuare 7 punti di impegno in questo periodo di 8-9 mesi, quello che sarà. L'intesa per lo sviluppo della Toscana è frutto di un lungo lavoro di concertazione e le aspettative sono molto alte. Secondo noi l'accordo in sé racconta la Toscana per com'è e per come dovrebbe diventare. Quindi è una Toscana che vuole puntare sulle sue piccole e medie imprese, che non le vive come un problema o come un'opportunità. È una Toscana che nell'ultimo scorcio di mandato della legislatura Rossi si dà come obiettivi un rilancio dello sviluppo del sistema economico. Rossi ha anche annunciato l'attivazione di una serie di tavoli su nodi strategici dello sviluppo come sanità, diseguaglianze sociali e territoriali, immigrazione e demografia e una grande mobilitazione sulle infrastrutture.